Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, nato a Cento nel 1591, è morto a Bologna a 75 anni, contraddistinto da uno strabismo che gli ha dato il soprannome. Popolare artista, tanto che è secondo solo al Caravaggio per numero di mostre che gli sono state dedicate. Nel 2016, in occasione dei 350 anni dalla morte, Comuni di Piacenza, Diocesi e Fondazioni di Piacenza Ivigevano, con il contributo di Credita Agricol Cariparma, hanno deciso di organizzare una mostra, appena inaugurata, ha già fatto registrare un boom di visitatori. A Piacenza il Guercino realizzò uno dei suoi capolavori, gli affreschi della cupola del Duomo, intorno al 1626. Un lavoro monumentale, ma difficile da apprezzare a 27 metri d'altezza. E allora, per la prima volta, è stato deciso di aprire l'accesso alla cupola. La salita è stata resa possibile grazie al recupero di spazi finora inaccessibili, liberati da macerie, guano e polvere. Attraverso 160 ripidi scalini, camminamenti interni e cunicoli, si arriva prima nel muro della navata laterale, poi sopra la navata centrale, dove è stato ricavato un lungo corridoio, che porta a un magnifico affaccio sulla piazza Duomo, con la vista dalla croce della facciata, chiusa da un vetro. Ma il momento più atteso è la visita alla cupola, che si ammira dal matroneo, con gli affreschi del Guercino illuminati dalle luci studiate da Davide Groppi, che ne risalta e rispetta i colori. Un gioco di luci che troviamo poi anche in cupola. Lì abbiamo proprio pensato che le luci unite poi anche alla musica, unite al racconto, servissero proprio per descrivere al meglio questo grande ciclo pittorico, che forse è una delle maggiori imprese proprio del grande maestro di Cento. E allora abbiamo una sequenza che anima prima i profeti, poi le sibille e poi le quattro lunette con la vita di Cristo. In canonica, esposti i documenti relativi al pagamento del Guercino per l'opera realizzata, 25 ducati per una testa, 50 per mezza figura, 100 se intera. In sagrestia, un filmato sulla storia degli affreschi della cupola, 12 schermi in verticale per raccontare in alta risoluzione la storia del rapporto tra Guercino e Piacenza. Anche Palazzo Farnese, sede dei Musei Civici Piacentini, è coinvolto con una mostra di oltre 20 dipinti del maestro, curata da Daniele Benati e Antonella Gigli. E sono per noi importanti perché ci danno l'idea di quello che è stato il percorso lunghissimo della vita di Guercino. Perché a partire dagli esordi e poi fino ad arrivare al trionfo della sua attività a Bologna, sono ben documentate, anche con pochi dipinti, tutte le attività della sua vita e le fasi della sua vita. Il 22 e il 23 marzo è stato annunciato un convegno internazionale di studio. La mostra andrà avanti fino al 4 giugno.